Non si era mai vista una cosa del genere in Italia Ha una multiconduzione Quindi ha molti punti di vista È libera perché è nata sul web È la TV 5 Stelle La TV fatta dai cittadini In cui l'ospite in trasmissione Puoi essere anche tu Tra gli ospiti della prossima puntata Coloro che sono stati eletti con il Movimento 5 Stelle E che risponderanno alle domande di voi web spettatori Tra cui Giancarlo Cancelleri Roberto Castiglion Alvise Maniero Chiara Appendino Salvo Mandarà Reporter per caso Presenta la TV 5 Stelle Inversione di ruoli Le domande dei cittadini Ai portavoce del Movimento 5 Stelle Mercoledì 5 dicembre Ore 21 e 30 In diretta sul canale Youtube di Salvo Mandarà www.youtube.com Salvo Mandarà Per essere sempre aggiornato Iscriviti al canale Visita anche il sito tv5stelle.blogspot.it Grazie a tutti Grazie a tutti